Buongiorno a tutti, salve, buongiorno. Io ho fatto quest'anno due laboratori all'interno del progetto Scappare presso la scuola Manin, ma sono 30 anni che mi occupo di laboratori per i ragazzi della scuola di ogni ordine grado e formazione per gli insegnanti. I laboratori all'interno della scuola Manin sono andati molto bene e anche perché è una scuola particolare, essendo anche il proseguimento della di Donato come elementare, che è molto famosa per essere una scuola con una grande rappresentanza di bambini di tutto il mondo, unita a un'altrettanto grande rappresentanza di persone residenti nel primo municipio. In questo senso è un laboratorio di sperimentazione interculturale attivo da molti anni. Più che mai quindi in quella scuola ha senso e continua ad avere senso il proporre e anche portare avanti i progetti spalmati nel tempo, mirati da una parte al reale inserimento sociale e scolastico dei bambini che vengono da altri paesi, ma dall'altra parte finalizzato proprio a valorizzare ogni singolo componente del gruppo classe, a prescindere dalla sua provenienza, aiutarlo a strutturare un'identità a lui conosciuta, a comprendere il proprio modo di relazionarsi agli altri e le reazioni di ritorno che in qualche modo sono legate ai suoi agiti e in qualche modo accompagnare la classe in un viaggio alla scoperta delle dinamiche che regolano le relazioni all'interno del gruppo classe, che poi sono molto spesso metafora delle dinamiche più ampie che regolano. E quindi in qualche modo attraverso questo laboratorio, attraverso questi laboratori in cui si lavora sulla valorizzazione dei bambini o dei ragazzi un po' più invisibili, passatemi questo termine, sulla destrutturazione degli stereotipi legati ai ruoli all'interno del gruppo, che molto spesso sono presenti nei gruppi classe, anzi direi quasi sempre, in cui si lavora sulla identificazione e superamento dell'eventuale conflitto che può esserci già presente in classe, molto spesso legati alle presenti giro reiterate, adesso senza scomundare concetti come il bullismo, ma molto spesso ci sono delle dinamiche anche che creano qualche sofferenza all'interno dei gruppi classe. E siccome la scuola, con questo concludo, lo dico sempre ragazzi, è il luogo dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo da svegli, cioè sono le persone, i loro compagni, con cui passano la maggior parte del tempo da svegli, perché né a casa con i genitori né in nessun altro luogo passano sei ore con le stesse persone. E' chiaro che le dinamiche affettive, relazionali all'interno del gruppo classe diventano fondamentali per il benessere esistenziale del ragazzo. E troppo spesso la scuola non ha tempo di occuparsi approfonditamente di questo, no? Molto spesso schiacciata la programmazione e da mille difficoltà oggettive. Per cui in questo senso auspico di continuare io, ma di far continuare proprio in senso generale i laboratori di questo genere all'interno della Manin e di ogni altra scuola a Roma nel territorio nazionale. Grazie a tutti, arrivederci.